A Pesaro, 672 persone di età superiore agli 80 anni si sono vaccinate sabato nella prima giornata di profilassi anti-Covid. Altri 672 riceveranno domani le personali dosi di Pfizer e Moderna e altrettanti lo faranno dopodomani. Insomma, continua la fase di immunizzazione della popolazione più anziana al centro sociale Monaldi della Celletta. Lo stesso dicasi per Fano e Urbino dove si viaggia a circa 340 vaccinati al giorno in ogni sede. Velocità di vaccinazione che però non viaggia di pari passo alla velocità di forniture dei vaccini. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha lamentato infatti una disponibilità di fiale che va ancora troppo a rilento, paventando anche l'idea di un acquisto dei flaconi in proprio da parte della regione. Intanto ci si consola con la risposta massiccia della popolazione alla chiamata al vaccino. Tutto bene, benissimo. Molto gentili, sono stati bravi, una dottoressa molto gentile, brava, molto. Anche un messaggio per chi è ancora un po' titubante? No, lo devono fare, specialmente noi che abbiamo una certa età, abbiamo i nipoti, abbiamo tutto, è meglio farlo. La scelta di fare il vaccino è perché spero che è una scelta che facciano tutti, speriamo vengano i vaccini, noi siamo stati fortunati a essere tra i primi, tutto ok, nessun problema. Com'è andata la prassi, come ci è voluta? Molto efficiente, veramente poca attesa, molta gentilezza, un bel servizio. È un passo in più, da stare un pochino più tranquilli, ma la sicurezza ancora non c'è. Io ancora ho 56 anni, quindi ho accompagnato mio padre di 83 a fare la vaccinazione. La scelta di subito al primo giorno? Attendeva con ansia il potersi prenotare per poter fare la vaccinazione, perché pensiamo tutti a casa che sia una cosa indispensabile per fermare questa cosa qua. Oggi ho accompagnato mio nonno insieme a un altro mio cugino, Nicolò, ha superato da poco gli 80 anni, però lui comunque si ha molta paura del coronavirus, va riuscito adesso, quindi voleva fare questo vaccino a tutti i costi perché comunque aveva paura anche quando eravamo insieme a lui, stava sempre lontano, sempre con la mascherina, anche magari in macchina, sempre con la mascherina perché ha una gran paura e adesso spero che gli sia un po' diminuita questa paura. Ci tenevo tanto a farlo che sono riuscito, quindi sono contento, sono contento di averlo fatto, adesso devo fare il richiamo al 13, quindi speriamo che vada tutto bene, è quello che volevo.